ciao amici oggi prepariamo insieme una ricetta tipica trapanese la mia versione delle patate passate ecco gli ingredienti 600 grammi di patate mezza cipolla 250 grammi di pancetta o bacon 200 grammi di mozzarella olio evo sale pepe e peperoncino per prima cosa peliamo le patate e le tagliamo a cubetti poi le inforniamo a 170 gradi per circa un quarto d'ora adesso tagliamo la cipolla e le aggiungiamo alle patate insieme ad olio sale e pepe e le inforniamo per circa mezz'ora aggiungiamo la pancetta e dopo 5 minuti la mozzarella a cubetti facciamo cuocere finché non si scioglie una spolverata di peperoncino e le nostre patate bastate sono pronte buon appetito e alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti